Con il loro allenatore che è stato per un anno e mezzo il condottiere della centrale Adesso la stoppata sul tiro di Toddy spulita da parte di Jenkins Può ripartire la centrale, Jenkins! 2-0 centrale! Con la canota ai biancazzurri Lui, tiratore incredibile dall'arco di desideri, grande infensore Ma è un gran tiratore Definiamolo così, vince nelle mani del playmaker argentino della centrale Siamo già dall'altra parte del parquet, Jenkins libero, carica, tripla! 15-8 15-8 E Barlos e Natale Si provvisa quasi play Michael Jenkins di fronte a sé, Bo Spencer Pick and roll con Barlos Ancora Jenkins, Jenkins in mezzo al traffico, canestro Talento c'è Pescia che attacca con MJ MJ, canestro Capitano Borsanto non va Prende lui il rimbalzo lungo Spencer dall'arco non va a rimbalzo Arriva ancora Jenkins Però lasciare i tiri aperti non mi sembra la migliore delle scelte Jenkins E su tre Tacco del terzo tempo Grandissima partita pienso di Bo Spencer che ha girato la partita per i suoi Rimbalzo arriva MJ, Michael Jenkins Che stoppata di Roderick su Giddens, non tanti possono permettersi di stoppare Giddens a quell'altezza E la risposta è di Michael Jenkins Già va dentro Fernandez, lo scarico Jenkins Tripla Grandissima giocata di Fernandez Che sul pick and roll invece che se... Nuovamente MJ, MJ Canestro di Michael Jenkins Assolutamente Ci arriverà al centello facile Jenkins E anche lui dall'arco Pallo su Barros, non chiamato Palla che arriva per Magia Jenkins Oh dear, I'll get it Ciao